I 1.400-1.500 posti di lavoro da impegnare nella sanità messinese sono un'occasione più che sognata. Ad anticiparne la quantità di quasi 900 ai nostri microfoni lo scorso 9 marzo è stato proprio il direttore generale dell'ASP locale Gaetano Sirna e a garantirne altri 500 sulla carta il manager del Policlinico Marco Restuccia. Sui posti vacanti dell'azienda sanitaria interviene anche la CISLE con la funzione pubblica dicendo che sarebbero una boccata di ossigeno ma non basta. Il sindacato sollecita a dare le corrette informazioni evitando di generare false illusioni ai potenziali futuri vincitori di concorsi. Non piove alcun dubbio su questo ragionamento. È chiaro che con la delibera della giunta regionale la numero 52 2016 a cui la CISLE fa riferimento e che abbiamo ricordato in questi giorni si apre l'opportunità delle assunzioni tramite bandi ad evidenza pubblica. L'assessore regionale alla salute Gucciardi mostra così il suo lascia passare agli atti aziendali e alle piante organiche delle aziende sanitarie siciliane. Per Messina si pone il veto temporaneo all'ospedale Papardo e all'IRCS Neurolesi in funzione del decreto regionale che deve ancora superare l'esame di ben due ministeri Economia e Salute. È necessario che i vertici regionali, sottolineano i segretari Tonino Genovese e Calogero Emanuele, velocizzino le procedure di assunzione per scongiurare carenze di personale con ricadute negative per i servizi sanitari come si verifica da tempo. Le aziende non devono trascurare certe eccezioni relative al personale che contribuiscono a creare le priorità. Alcuni dipendenti godono di limitazioni e svolgono altre attività pur mantenendo il profilo originario. Prima di ricorrere al concorso pubblico e all'accesso dall'esterno, spiega la CISLE, bisogna intraprendere le procedure di mobilità regionale e interregionale. L'ASP peloritana, che coinvolge i presidi ospedalieri del territorio, da Mistretta a Taormina, presenta una pianta organica complessiva tra medici, tecnici, infermieri e personale amministrativo pari a 5.093 posti. Gli occupati sono 4.231, da cui si ricavano gli 862 vacanti. I posti disponibili nella dirigenza medica sono 236. Per le professioni, ovvero terapisti ed infermieri, si richiede di occupare 161 posti, perché quelli impegnati sono 2.107 su 2.268. Per amministrativi, operatori e ausiliari c'è una disponibilità di 465, visto che ad essere occupati sono 973 su 1.438.